Sono arrivate nel primo pomeriggio di ieri le condanne nel procedimento che doveva fare luce sul tentato omicidio di Raffaele Bongiovanni consumatosi nel 2013 a Torianova. Il gruppo presso il Tribunale di Palmi, Giulio De Gregorio, ha condannato a 10 anni di reclusione Rocco Larosa e a 8 anni di reclusione Pasquale Scariato. I due erano accusati di tentato omicidio e i danni di Raffaele Bongiovanni nella differenza di pena ha pesato lo stato di incensuratezza per Scariato, che si è visto così riconoscere le attenuanti generiche mentre è stata tenuta in considerazione l'aggravante della recidiva reinterata per Larosa. Al contempo, il gruppo De Gregorio, che ha chiuso il primo grado del processo che si è celebrato con il rito abbreviato, ha accolto la richiesta dell'avvocato di parte civile che ha rappresentato in giudizio Raffaele Bongiovanni, condannando in due imputati al pagamento di una provvigione di 50.000 euro a favore della parte offesa, rimandando al giudice civile per competenza la quantificazione del danno. Rocco Larosa, 35 anni, e Pasquale Scariato, 32 anni, entrambi di Taurianova erano imputati per il delitto di tentato omicidio nei confronti di Raffaele Bongiovanni, 35 anni anche egli, di Taurianova, verificatosi la notte del 13 ottobre del 2013 in località Ponte del Re di Taurianova. L'uomo era stato ferito a un fianco da un colpo d'arma da fuoco mentre si trovava in Contrada Pegara, zona agricola del popoloso centro reggino. Per fare luce su quanto accaduto, indagarono gli agenti di polizia del commissariato di Taurianova, Bongiovanni era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Polistena, accompagnato da alcuni parenti dove era stato operato. In un primo momento la vittima, che era cosciente all'arrivo in ospedale, avrebbe dichiarato di essere stato vittima di un incidente stradale per poi ammettere ai sanitari che si trattava in realtà di un colpo d'arma da fuoco.